Musica Salve e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi mostrerò un primo piatto tipico della cucina calabrese, più nello specifico della cucina tradizionale cosentina. Sto parlando dei rigatoni alla cianca leone. Conobbi questo piatto anni fa quando ancora frequentavo l'università perché mi capitava spesso di rimanere a mangiare nelle ristorantini a tavole calde vicino all'Ateneo e spesso nel menù leggevo rigatoni alla cianca leone. Incuriosita più che altro dal nome, decisi di provarla e me ne innamorai. Ho fatto varie ricerche su internet per capire l'origine del piatto ma soprattutto l'origine del nome, ma non ho trovato nulla. Giù nell'info box troverete la lista di tutti gli ingredienti e troverete anche il link per andare a leggere le ricette direttamente sul mio blog. Seguitemi su tutti i social se volete, troverete sempre la lista giù nell'info box e vi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere nessuna ricetta e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.